I rappresentanti del Partito Democratico abruzzese bocciano senza se senza mai i primi sei mesi di attività della giunta regionale guidata da Marco Marsilio. Dalla giunta lenta si è passati alla giunta ferma. Hanno spiegato questa mattina il capogruppo in Consiglio regionale Silvio Paolucci, l'ex assessore all'agricoltura Dino Pepe ed il segretario regionale del partito Michele Fina. Sanità, trasporti, caccia, pesca, queste le note più negative. Sei mesi a discutere di nomine. Non si ricorda un atto di programmazione, non si ricorda una legge significativa che non sia stata osservata. Marsilio risponde molto spesso agli appelli della Meloni e di Salvini. Si mette molto i panni e nei panni del parlamentare dell'opposizione ma non svolge il ruolo di presidente di regione. La sanità ha teso sei mesi per i manager. Non vi è un piano approvato, è blocco delle assunzioni, nulla si dice attorno agli investimenti degli ospedali. Per quanto riguarda i trasporti rischiamo l'affidamento in house attua. Entro il 3 di dicembre di quest'anno rischiamo di non poter affidare le tratte attualmente in concessione. Studenti a terra, mezzi fermi, personale non assunto, cerella in default. Per quanto riguarda la caccia abbiamo il calendario venatorio bloccato, unica regione d'Italia, fondi fermi per l'agricoltura e per le piccole e medie imprese. E nessuna visione dell'economia, del lavoro, della parte dello sviluppo legato al turismo, della strategia, della trasversalità, della portualità, delle infrastrutture. Unica nota positiva, le risorse che noi lasciamo nel bilancio, quando arrivamo nel 2014 abbiamo dovuto anticipare 140 milioni di euro perché mancavano, vi era una inconsistenza di cassa, attualmente abbiamo lasciato 500 milioni che hanno giustamente adoperato per anticipare gli investimenti che però noi portammo a casa con il masterplan, con l'aggiunta d'Alfonso e il presidente del Consiglio Renzi. Ci chiediamo quali sono dopo sei mesi le risorse vostre di questo governo regionale aggiuntive che avete portato all'Abruzzo. Zero.